Professore, chi dice che il vaccino a mRNA è una tecnica completamente nuova, non conosciuta e teme una compromissione del nostro sistema, del nostro codice genetico? Cosa risponde? Innanzitutto il vaccino è stato sviluppato, i vaccini a mRNA sono stati sviluppati alla velocità della luce ma sono stati sviluppati alla velocità della luce perché si è fatta ricerca per 20 anni e in particolare si è fatta ricerca per sviluppare vaccini terapeutici contro il cancro, si è inseguito un sogno quindi niente di improvvisato. Le modificazioni genetiche, siamo sicuri che non accadono così come abbiamo detto che siamo sicuri che non c'è problema di sterilità, perché? Dobbiamo ricordare che tutte le volte che noi abbiamo un'infezione virale, un raffreddore una diarrea da rotavirus, un mal di gola, le nostre cellule sono piene di RNA messaggero virale e di tanti tipi, sono letteralmente pieni, non succede nessuna modificazione genetica in questo caso è l'RNA messaggero che codifica per una proteina e siamo assolutamente tranquilli che non ci sono modificazioni genetiche.